Nel film c'è una sequenza bellissima in cui Nada bambina per la prima volta canta e la madre torna a sorridere per la prima volta dopo tanto tempo e le dice sei stata tu a guarirmi con la tua voce. Questa è una scena bellissima perché Nada sente di riuscire in qualche modo ad afferrare quella madre inafferrabile però dall'altra le pone addosso un peso di responsabilità che l'accompagnerà tutta la vita e di cui Viviana si renderà conto solo tanti anni dopo attraverso una fotografia. Volevo sapere come si fa a interpretare una donna così e cosa si prova per una donna così perché io da spettatrice non sono riuscita ad avere un giudizio negativo su questa donna. No neanche io ce l'ho un giudizio negativo adesso tu mi dici questo mi sono rivenuti gli occhi lucidi a ripercorrere tutto purtroppo Viviana è una donna che ha una malattia e al tempo considerare questo come una malattia non si usava cioè era un paese così piccolo poi tutti sanno dei suoi problemi quindi è la matta del del paese quando lei vorrebbe assolutamente frenarla questa cosa è consapevole pure dei limiti che questa malattia le impone. Infatti va dalla norma e le dice io non sono una buona madre io ho paura di fare di mettere gli spilli dentro la merenda io mi devi controllare no perché lei ama follemente sua figlia lei sui figli ma è consapevole è lucida dell'handicap psichico che ha mettiamola così o anche quando si lo sa quando la figlia la vede piangere alla finestra vorrebbe essere diversa ma è tutto molto 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 più grande di lei quindi questa cosa le dà un enorme senso di frustrazione perché c'è un senso di colpa enorme e sì che nada attraverso il suo modo di cantare la riporta su noi abbiamo sempre detto con costanza che il film si muove su due linee c'è la medicina e la medicina sono tutti tentativi di cure dosaggi che sperimentano su di lei la sperimentazione a volte va bene a volte è grava ed è esattamente quello che succede a lei e la magia la magia la magia è quello che riesce a fare il nada che non è semplicemente la musica è l'amore è l'attenzione quella tensione che dà quella bimba a sua madre non lo dà nessun altro personaggio in questo film il marito la ama follemente ma non sa più come gestirla la nonna ovviamente la ama ma non sa più come gestirla miria si trasferisce il paese ne parla il dottore finché non arriviamo a sette anni dopo e quindi iniziano a parlare tra di loro è tutto una roba prenda questo 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 non c'è è una donna sola in qualche modo e quindi attraverso il rapporto con nada che è simbiotico lei pian piano cresce nada ma cresce pure viviana sbocciano insieme in qualche modo e quando la ritrova quella fotografia è consapevole di cose è stata in grado di rovinare col suo dolore il matrimonio di miria l'infanzia di sua figlia è un senso di colpa gigantesco è per quello che poi entra in una crisi per quello che riguarda il futuro e se non ho fatto bene se da adesso in poi succede forse come dicevo prima è il momento in cui diventa una madre è il momento in cui finalmente diventa protettiva un po' ora lo può fare c'è subito di tutto prima chiudiamo anche all'elettroshock perché siamo in quel paese lì l'Italia prima del 1970 dove tutto ciò era concesso è normale che è la cosa più grave del concesso perché è molto più grave che per tutti fosse ok così che andasse bene quindi sai è stato un viaggio molto doloroso molto doloroso però in tutti i momenti in cui abbiamo toccato la felicità che a volte è concisa con le gare di nada io veramente ho sentito una gran felicità perché nel mio percorso di Viviana Viviana non ha mai picchi di felicità se non da quel momento in poi prima è sempre in un mondo più sotterraneo silenzioso più buio e nada dice a sua madre io i sacrifici non li volevo eppure questa mamma per questa figlia sogna più in grande per l'altra figlia sembra quasi essersi rassegnata senza opporsi al destino no? Che ha scelto per per se stessa perché la figlia Miria ha scelto quel destino cioè Viviana non ha scelto la sua vita perché è identica a quella di sua madre e sua bisnonna Miria il suo obiettivo come poi dice Nada in una lettera è sposarsi il suo obiettivo la sua libertà è sposarsi e Viviana lo sa che non è quella la libertà poi l'amore ti può portare a sposarsi e sposarti ma non è quello il punto e ora è forse anche forse anche cresciuta lei come donna Viviana sono passati gli anni e quindi ora è più consapevole probabilmente siamo anche di fronte alla seconda figlia che ha avuto in un'età più matura perché hanno una distanza di dieci anni le le due figlie magari la prima è la risultante dell'effetto immediato di un matrimonio il suo matrimonio con Gino la seconda è una scelta la scelta di diventare madre e quindi anche la scelta del non devi fare la mia vita ho trovato molto interessante sotto questo punto di vista il rapporto che lei ha con Nora questa donna che porta nel paese la modernità porta il jukebox la televisione porta i pantaloni una donna che guida la macchina da sola che ha una vita sessuale che è completamente libera esatto libera e che va contro tutto quanto quello che la società a quegli a quell'epoca voleva per una donna e credo che forse la sua indipendenza di Nora insieme alla lungimiranza e alla voglia di libertà che ha che ha Viviana forse rappresentano quel primo tassello per una per una crescita femminile assolutamente beh per Viviana incontrare Nora è fondamentale e incontrarla in quel momento della vita sicuramente in quegli anni lì una Viviana che incontra una come donna può cambiare e può scegliere la vita che ha prodotto perché finalmente vede una persona che vive in un modo completamente diverso al suo quindi è possibile perché se tutti gli altri vivono lo stesso identico modo al mio allora forse non è possibile invece invece vede la libertà vede una donna indipendente una donna che ce la può fare da sola e oltre all'aspetto divertente di questa cosa perché se ci fai caso da quel momento in poi Viviana ride ride tantissimo si vive balla e sta nascendo sta nascendo e sembra quasi mangrado sia invecchiata più giovane perché sta scoprendo qualcosa che prima non ha mai vissuto prima c'erano i grandi valser al matrimonio di Miria che lei assiste però quello era il tipo di divertimento c'era tutto molto pacato mentre arriva un giubox arriva facciamoci un bicchiere di vino arrivano quelle cose che prima erano impensabili Il film è anche un film sulla memoria non soltanto quella di Nada ma anche dell'Italia io ad esempio ho ritrovato in questo film dei racconti di mia mamma bambina quali sono invece qual è la memoria che hai trovato tu in questo film? A parte di alcuni racconti che mi ha fatto Nada e quindi quando poi mi sono trovata a far mecciare le due cose e poi sì ci vedo moltissimo i miei genitori che si sono sposati nel 69 e quindi me le immagino me le immagino ragazzi in quel periodo e con tutte quelle emozioni lì quelle canzoni che che Nada canta eh sono le loro colonne sonore che gli ho sentito cantare mille volte E attraverso Viviana noi facciamo un viaggio anche appunto nella malattia mentale nella depressione e eh hai appena detto che hai avuto modo di confrontarti anche con dei ricordi diretti di Nada Volevo sapere se c'è stata una ricerca eh su quello che era la malattia mentale in quegli anni i trattamenti e anche magari eh appunto la possibilità di confrontarti con con la figlia di della donna che interpretavi Allora con Nada mi sono confrontata prima perché prima che arrivasse questo film e lei mi ha parlato molto io poi sono una spugna a livello emotivo quando è arrivato il provino e poi di conseguenza il film eh io non volevo guarda è delicata interpretare la madre di una tua amica ok e quindi io non volevo sbagliare niente non volevo neanche dar fastidio non volevo che che ci rimanesse male magari per cose che ci sono in sceneggiatura e che non ci sono in nella vita capito quindi l'ho fatto da me eh guardando tante cose io una ricerca su sulla malattia mentale soprattutto come raffrontata in quegli anni in Italia l'avevo già fatta per un altro film e l'ho ripresa e vabbè potremmo aprire un enorme capitolo un enorme capitolo perché i trattamenti che facevano erano erano non semplicemente pesanti erano da considerare illegali e invece erano accettati da tutta la società e poi con motivazioni cioè ora Viviana era veramente ridicolare però quelli quegli stessi tipi di trattamenti le facevano anche ai bambini troppo vivaci ai bambini figli di madre single stiamo parlando proprio di qualcosa medievale pericolosissimo pericolosissimo e quindi quando ricostruito tutto ciò ho messo in fila tutta una serie di cose la condizione della donna in quel momento la condizione della donna all'interno della famiglia eh il disturbo mentale che non essendo ancora definito a livello sociologico è difficile pure da raccontare da esternare perché che ci avrai mai capito non è oggi lo sappiamo che cos'era la depressione al tempo non si poteva sapere che cos'era la depressione e poi eh queste due figlie così distanti la seconda la piccola nada che comunque è un una bambina che non è che non vuole semplicemente cantare voleva fare la bambina voleva avere un'infanzia da bambina e c'è sta madre che la costringe a a fare lezioni concorsi ma non perché perché è una rivista non è una che dice voglio il successo di mia figlia no voglio dargli tutti gli strumenti che le possano permettere di essere libera gli strumenti che le permettano di studiare e la manda a studiare eh anche oltre le classi che ha fatto lei perché probabilmente indiana poi abbiamo fatto degli studi con con costanza ma io ci metto la mano sul fuoco e nel libro di di nada c'è qualcosa non sapeva leggere quindi quelle famose lettere che facciamo sempre leggere a nada ma perché lei non sa leggere poi nel film abbiamo voluto lasciare la vaga questa roba per non dare troppe informazioni ma se ci pensi davvero è molto probabile è altamente probabile perché tanto la sua vita sarebbe stata nei campi campi mercato c'era una battuta quando lei in una scena che sempre non c'è più che litigava con Gino eh e diceva la mia vita è sempre uguale ehm i polli le uova il mercato i polli le uova il mercato io non sono così io voglio vivere lui faceva che ti manca voglio vivere e tu invece ti accontenti di tutto e nada non è come te come me questo ripete Viviana ora purtroppo non c'è più però per me è stata fondamentale nella costruzione del personaggio grazie mille per il tuo tempo grazie a te grazie a te